Musica 88 corridori prendono il via per la tappa più temuta del Tour che da Bourdieu a Saint porterà la carovana multicolore in territorio italiano al Sestriere. Coppi è il più sorvegliato, ma ciò non gli impedisce di aggiudicarsi la buono sulla prima vetta. La tattica del campionissimo è meravigliosa. Gli avversari ricongiungendosi con lui nella discesa credono ormai affaticata la maglia gialla, tanto che il regionale francese Le Guilly può avvantaggiarsi di ben due primi e venti secondi su tutti gli altri non immaginando mai che sarà il punto d'appoggio per il nostro grande campione. Infatti a metà della dura salita del Calivier Fausto si alza sui pedali e fa il vuoto alle sue spalle. Dietro intanto Bartali è tra i più attivi nell'inseguimento. Alla sommità del Calivier Coppi ha un vantaggio di due primi e venti secondi su Ruiz, due e 55 su Le Guilly, quattro e trenta su Bartali e Ockers. Il volo dell'Aquila aumenta sul Monginevro. Alla frontiera finalmente le acclamazioni interminabili nella tanto cara lingua italica. Ormai non rimane che il sestriere Fausto vi giunge da trionfatore tra il delirio della folla con sette primi e nove secondi su Ruiz. Il tour dovrebbe essere finito qui. Close, secondo in classifica generale, ha ormai venti minuti di ritardo sul solo legittimo vincitore Coppi.